Se non verrai, dovrai scendere da quel dirupo da sola. Nessuno ti darà una mano. Ci vuole un mix di determinazione, fortuna e soprattutto è essenziale, come per Moxie, avere vicino delle persone che ti sostengono e che credono in te. Dai, facciamo una prova con qualcuno. Questo tunnel è reale e deve portare da qualche parte. E se qualcuno può scoprirlo, siamo noi. Fucsia. Determinata e fortissima. Resta salda in piedi invece poi, mostragli chi sei. Fortissima! Ciao!